La situazione è molto diversa, anzi, ovviamente io leggerò il fine settimana le motivazioni nel dettaglio, oggi faremo un comunicato ma da quello che abbiamo visto e da quello che abbiamo letto è un risultato enormemente positivo quello che è venuto dalla sezione regionale di controllo, questa è la sezione che ci aveva detto due anni fa, che noi eravamo morti e noi invece abbiamo ribaltato quella decisione, siamo andati a Roma e abbiamo vinto su tutta la linea, oggi quella stessa sezione dice che noi non stiamo più nella linea del dissesto e del predissesto, dice che ovviamente la strada da percorrere non è finita ma questo lo sappiamo anche noi, tant'è che stiamo nella procedura di riequilibrio ma il risultato storico è che la stessa sezione che due anni fa aveva detto che noi eravamo morti, oggi dice che ormai è un ente vivo, è un ente che ha intrapreso la strada giusta ed è talmente giusta che noi nel bilancio di previsione che andremo ad approvare entro fine aprile sanciremo anche l'uscita anticipata dal riequilibrio, quindi quelle irregolarità che la sezione regionale dice devono essere ulteriormente affrontate sono esattamente quelle che noi stiamo affrontando in questa fase finale e che attengono tutte, lo voglio sottolineare, a quello che noi avevamo ereditato dalle amministrazioni precedenti, quindi noi siamo molto soddisfatti perché anche coloro i quali, le stesse in parte persone fisiche che avevano fatto delle valutazioni molto negative, oggi hanno dovuto comunque riconoscere che il comune di Napoli è uscito fuori dal rischio di sesto, quindi la ricostruzione così come messa in evidenza non è quella che corrisponde alla situazione attuale del comune di Napoli. Nel dettaglio in giornata comunque faremo un comunicato, l'assessore dal bilancio insieme al capo di gabinetto ci lavoreranno in mattinata e quindi lo rendremo pubblico.